L'affiancamento di un imprenditore senior all'imprenditore giovane, la creatività dell'uno e l'esperienza dell'altro che si arricchiscono a vicenda, permettendo lo sviluppo dell'impresa anche nel nostro territorio. Questo è il tema del secondo InfoDay del progetto ErasmusNet, iniziativa dell'Unione Europea a cui è aderito la città metropolitana di Milano. L'Italia nel programma è il paese più attivo, che fa registrare un'adesione maggiore di giovani imprenditori che vogliono andare all'estero. Questa per città metropolitana di Milano è un'opportunità interessante perché offre per la prima volta la possibilità del nostro ente di cimentarsi realmente in un'attività di relazione, di connessione, di facilitazione con il territorio, soprattutto tra giovani emergenti, giovani talenti che vogliono investire nella loro creatività, nella loro capacità imprenditoriale. Città metropolitana si avvale in questa attività di intermediazione del Multilab di Rozzano, che è stato attivato nel corso di quest'anno da Follsud, l'Agenzia di Formazione e Orientamento al Lavoro del Sud Milano. Multilab di Rozzano ha due aree, un'area Business Lab, che chiamiamo Business Lab, dove è possibile avere consulenza su temi che sono quelli dell'imprenditorialità, quindi dalla ragione sociale, dalla forma giuridica, agli aspetti fiscali, eccetera, eccetera, a un Fab Lab dove invece vogliamo offrire opportunità a quei giovani o adulti che posseggono competenze di tipo artigianale e che desiderano, ad esempio, intrecciare queste competenze con quelle che sono le tecnologie digitali. Grazie a tutti.